Chi crede che in Italia il nucleare sia solo un'ipotesi impraticabile o un lontano ricordo potrebbe pensare che queste immagini provengano da altri paesi. E invece no, questo reattore nucleare si trova a pochi chilometri da Roma e funziona a pieno regime. È uno degli impianti sperimentali di cui si avvale l'Enea, l'Agenzia Nazionale di Ricerca per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Un polo d'eccellenza riconosciuto a livello mondiale che festeggia quest'anno i 50 anni di attività del Centro Ricerca e della Casaccia e di cui addirittura si è servito il CERN di Ginevra. Ma niente paura, questi impianti sono piccoli e servono esclusivamente per studiare effetti e possibili applicazioni dell'energia atomica, il tutto in completa sicurezza. Si tratta di prove che vengono effettuate secondo delle normative stringenti, delle procedure stringenti e vengono poi accompagnate da prove sismiche, prove termiche e prove di compatibilità elettromagnetica ed eventualmente prove di loca che sono il test finale dell'incidente nucleare più grave assieme allo shock aereo. Tapiro e Triga sono questi i nomi dei due reattori nucleari attivi nel centro laziale. I ricercatori li usano per studiare gli impieghi dell'energia atomica in campo industriale e medico, ma anche per la conservazione del patrimonio artistico. Come dire che l'atomo non è per forza sinonimo di armi o scorie radioattive. C'è molta disinformazione, quindi il compito anche dei reattori nucleari di ricerca è quello di educare, quindi informare al pubblico e non far avere la paura dell'ignoto. Su un possibile utilizzo dell'energia nucleare in Italia, mentre l'opinione pubblica resta divisa, gli scienziati dell'Enea non si sbilanciano, anche se su una cosa sembrano essere concordi. Gli impianti atomici non sono meno sicuri di quelli che sfruttano le altre fonti di energia. Incidenti come quello di Chernobyl sembrerebbero, insomma, appartenere al passato. Le centrali di quel tipo non sono centrali ormai installate né installabili, sono di vecchia generazione e un incidente di quel tipo non sarebbe più neanche possibile. Per percepire la differenza basti pensare che un componente, un sistema, prima veniva testato per un tempo di vita di una centrale vecchio tipo per 20 anni, adesso il tempo di vita di un componente deve essere di 60 anni. Nei termini del rispetto delle normative, delle sicurezze, eccetera, sicuramente è una cosa sicura, fermo restando il rischio che è intrinseco nel progetto come di tutti i grandi impianti, anche impianti di altro tipo.